Un caro saluto ai concittadini andriesi, mi preme sottolinearvi che le interpellanze, alcune interpellanze presentate dal Partito Democratico nelle settimane precedenti stanno avendo già dei risultati positivi. Questa mattina abbiamo notato la funzionalità e il ritorno alla funzionalità della fontana di via Ceruti, il rondò di via Ceruti che per molto tempo era stata inattiva o che funzionava male e che al tempo stesso è stata in parte ripulita dei tanti rifiuti cartacce che provenivano dalla strada e che trovavano poi accumulo in quell'area. Così come il parco di via Ceruti è stato parzialmente pulito a seguito della nostra istanza, così come anche i viali di via Canal e i viali di via Mattia Preti. Naturalmente la pulizia fatta non è professionale, non è fatta bene, ma comunque abbiamo contribuito a smuovere un po' le acque. Chiediamo all'amministrazione comunale che i servizi vengano fatti alla cittadinanza con più professionalità. Noi naturalmente come Partito Democratico saremo dietro a pungolare ed essere attenti all'attività dell'amministrazione. Un caro saluto a tutti i concittadini.